we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone daie can you hear the screaming out we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuderone e ragazzi mamma mia mamma mia qualche ora fa anzi ieri oramai è apparso finalmente il primo teaser ufficiale della stagione numero 9 di fortnite che ha ovviamente mobilitato tutta la community reddit youtube twitter per cercare di capire il più possibile quale sarà l'ambientazione le skin del pass battaglia quello che dovremo aspettarci e ovviamente ragazzi nel video di oggi parleremo di tutte queste teorie anche andando ad esaminare un po più dettagliatamente l'immagine ufficiale stessa quindi season 9 ma anche ragazzi un post interessantissimo ufficiale di epic games su reddit che parla di alcune modifiche confermate per questa season numero 9 che vi ricordo inizierà giovedì io sarò in live indicativamente dalle 9 9 e mezza del mattino e vivremo insieme tutta la parte in cui i server andranno giù mantenendo sempre anche un occhio di riguardo per tutti i leak in live di quello che arriverà e che non ci verrà mostrato ufficialmente subito ma quindi ragazzi prima di cominciare voglio ringraziare tutti quelli che utilizzano il mio codice creator nello shop xiu derone grazie di cuore ragazzi per il mega sostegno che date ogni giorno al canale mi raccomando iscrivetevi in tantissimi e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live a prima però la domandina raga cavolo ve la devo fare son curioso di brutto di questa domandina e non riguarda ragazzi il teaser tiè così non pensate quello che è no è una domanda molto più interessante ma tu che arma toglieresti nella season numero 9 son curioso di sapere se doveste scegliere di togliere un'arma dal gioco quale sarebbe la mia ragazzi è il fucile termico dai adesso voglio sapere chi è rimasto chillato da qualcuno col fucile termico negli ultimi 97 giorni secondo me nessuno ragazzi perché dai è un'arma palesemente inutile arrivati a questo punto di fortnite io la eliminerei voglio però sapere qua sotto nei commenti qual è la vostra ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance andiamo subito subito a vederlo ecco qua meraviglioso il primo teaser ufficiale lo avete visto già tutti in tutte le salse ne sono convinto e subito decidono di mostrare una skin che molto probabilmente andrà nel prossimo pass battaglia sono un po restio a pensare che sia la skin finale sono più propenso a pensare che sia o una skin del pass battaglia stesso o una delle prime due skin appunto che ci vengono date all'inizio vi ricordo ovviamente pass battaglia costo 950 vbucks come in tutte le stagioni è già stato confermato da epic ma le cose interessanti che possiamo vedere in queste immagini innanzitutto vi faccio vedere ricalcando vediamo se me la fa vedere ecco qua ragazzi la parte colorata in realtà è palesemente una n la vediamo molto meglio con questi bordi neri e la domanda che sorge spontanea è che diamine è questa n che parola andrà a formare questa n sappiamo che i teaser sono tre quindi la parola sarà in inglese di tre lettere la prima che mi viene in mente a me è new quindi nuova novità però sarebbe un po troppo scontato qualcuno aveva detto che la parola era nine news ma in realtà non può essere perché iniziando appunto giovedì mattina la season non avremo il tempo matematico per vederne quattro quindi i teaser saranno sicuramente tre un'altra cosa molto particolare di questa immagine è appunto quello che è disegnato in quella specie di placca di targhetta nella parte superiore della skin c'è scritto alt f9 ragazzi qualcuno aveva detto alt f4 ma guardandolo bene quello è proprio un 9 il problema è che cavolo vuol dire dai raga è una scritta si capisce benissimo che è alt f9 ma anche provando questa combinazione di tasti in game in realtà non accade nulla quindi non saprei davvero che cosa dire magari qualcuno di voi ha qualche idea che a me è sfuggita mi raccomando la dica nei commenti se volete il mio onesto parere vi faccio intanto vedere ah peccato non l'ho inserita niente peccato il mio onesto parere non lo so questa skin ragazzi allora sicuramente l'ambientazione è futuristica dai l'abbiamo capito tutti l'han detto anche nel primo teaser in italiano il futuro è sconosciuto quindi si parla ovviamente di questo qualcuno ha detto che nel video trailer della season 9 un'ultima roccia infuocata colpirà la parte centrale di sponde del saccheggio proiettando tutti i giocatori in una dimensione futuristica ma io sono davvero incredulo nel pensare che non ci sarà più la mappa che conosciamo adesso new potrebbe voler dire anche nuova mappa ma dai raga io penso è impossibile creare una nuova mappa partendo da zero con tutte le vicende che sono successe in questa quindi sicuramente staremo a vedere una notizia molto interessante invece riguarda proprio la data di inizio e fine della season inizia il 9 maggio e finisce il primo agosto ragazzi quindi in piena estate cominceremo poi la stagione numero 10 ma adesso è un po' presto per cominciare a parlarne ecco qua invece quello che volevo farvi vedere un'immagine speculare bellissima che ci mostra a pieno tutta la skin fatta a vedere oggi quindi non lo so staremo davvero a vedere questo pomeriggio se il teaser numero 2 ci aiuterà a scoprire qualcosa in più ma andando avanti ragazzi ecco qua invece un post di reddit interessantissimo ufficiale di epic games che ci dice già alcuni cambiamenti ufficiali che verranno fatti nella season numero 9 stiamo parlando in questo post specifico di bug e migliorie nel compartimento audio ve ne leggo un paio ad esempio sopra di me dice hanno sistemato il problema dei passi che ancora in alcune strutture non fa capire bene dov'è l'avversario io lo so ragazzi ogni volta che portano un update anche se non ve lo dico spesso ci tengono tantissimo a migliorare l'audio dei passi quindi a far capire se è sopra l'avversario se è sotto se è a destra se è a sinistra e continuano a migliorarlo ma ci sono un sacco di modifiche anche per quanto riguarda la distruzione degli oggetti probabilmente sentiremo nuovi effetti sonori anche più realistici per la distruzione della maggior parte degli oggetti e anche delle modifiche per l'audio durante i ping nella nostra squadra di oggetti o nemici quindi staremo a vedere piano piano anche tutte le modifiche a livello tecnico ma voglio anche ragazzi parlarvi della skin honor guard è un po' che non se ne parlava in realtà abbiamo una notizia ufficiale nella pagina di twitter francese di honor che dice per quanto riguarda l'outfit honor guard adesso sarà fra poco disponibile perché hanno sistemato il problema dove la maggior parte dei codici riusciva ad essere trafugata e ovviamente regalata barra venduta su internet a chi anche non avesse acquistato l'honor 10 quindi aspettiamo ancora un pochettino qualche giorno e tutti i possessori invece di questo telefono non si devono preoccupare perché ovviamente potranno scusate finalmente riscattarla beh ragazzi che dire noi aspettiamo con ansia oggi il teaser numero 2 le notizie piano piano verranno fuori io vi ringrazio un sacco per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su codice creator xyuderone noi ci vediamo alle 13 in live ciao